Musica Dunque mi trovo qui sulla nave di Capitanoncino perché ho deciso di fare tutto ciò quello che avevo lasciato in sospeso Vediamo se riusciamo poiché presumo che quella porta, quella che poi abbiamo visto in inizio gioco sia proprio la porta finale, cioè verso la fine del gioco quindi prima di andare verso la fine facciamo le cose in sospeso come ho sempre fatto Allora, iniziamo da questo boss segreto della torre dell'orologio Andiamo Cosa c'è Trilly? Vuoi andare alla torre dell'orologio? Spero di essere abbastanza forte Cosa facciamo Sora? Eh andiamo Bene, vogliamo insieme i figli Sì, ho Peter Pan perché purtroppo se no Trilly non si capiva Io avevo voluto ottenere come al solito Paperino e Pippo ma ho dovuto rinunciare a uno dei due Eccolo qua Allora è lui Ha una strategia tutta sua Più complessa del treno del ghiaccio per essere sconfitto Allora prima di tutto Assolutamente Ok Blochiamo le lancette perché lui se no lancia maledizioni Ok 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 E ecco In seconda del colore Della sfera che gli appare Dobbiamo colpirlo in maniera differente Bianco Keyblade Blue Blitz No Rosso Fire Ecco E c'era anche il giallo Giallo Thunder Ok Adesso qua lancia una maledizione E' meglio non venire colpiti Perché è tipo il veleno Continua a scenderti la vita Cos'è? Ok Allora facciamo una roba Perché ogni tanto Aspetta Dobbiamo andare qua Ok No no È troppo lontano Ok 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 Tutto così eh No no È ripartito Dimmi che si è bloccato Sì Sì Perché allo scadere delle lancette Se non le blocco Un personaggio muore Ok Ok È un po' Un po' laboriosa Ma no È ripartito il tempo Vaffanculo Adesso Peter Pan sarà andato Infatti No no Via Via No mi ha preso Sì Ma già che non ho No ma fa niente Usiamo oggetti Gran pozione Va Ok Beh Ok Cioè di per sé Non è Difficilissimo Nel senso È tutto così Però È Il problema del tempo È un bel problemino Ok Dimmi che vai vicino Ok Non ti miro più Ok 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 ha preso il muro Perfetto Speriamo che Pippo non muoia Ok Allora non devo farmi colpire Possibilmente Ok Blizzard Ok 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 via Non miriamo più Miriamo le lancette Ok 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 Sì Infatti la primissima volta Madonna Diventai matto Per capire Cosa dovevo fare Perché non I personaggi venivano maledetti E quindi Mi seccava tutti Oh 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 Aspetta Aspetta Ok Appena in tempo Aspetta Non ho Eh non so se sono abbastanza vicino Speriamo Ho bisogno però Aspetta Oggetti No Vabbè dai Rifacciamo Anzi Metto qualche oggetto Che carica la magia Va Allora No non mirare Mirare le lancette Mirare le lancette Madonna L'ho fatto No Te pareva Oh Ok Mi devo curare Ok 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 Ah già Fa quella roba lì Aspetta Ok Oh bene Thunder Ok Ok Perfetto Mi direi che è giunto il momento Di fermare nuovamente le lancette Ok Oh Ci hanno pensato loro Ancora Ottimo Ottimo Guarda Quello bianco Ancora meglio di quello giallo Ok Copro un attimo Ok 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 Roccio Rosso non mi piace per niente Ok Direi che Vado a bloccare le lancette Che a breve Perfetto Via Vai Giallo Ok Ok Dai Dai Un bel po' di bianchi Ci stanno capitando Ok Non vedo Ok Ci ha pensato Peter Pan Vado a nascondermi Vado a nascondermi Ok Bianco Ottimo Giallo Giallo Rosso Rosso Ok E io ho idea che Tra poco ripartono Quindi Sto finendo Cos'è? Oh ci hanno pensato loro Vai Fendo i pm Tra poco userò etere Mi sa Ok bianco Ok Ok Allora usiamo intanto che lui fa sta roba Usiamo etere Ok 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 Via Tocchiamole Oh Fire Ok 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 Oh Aiuto No Questo no Ok Non ce ne ho più Non ce ne ho più Eh Cavolo Eh adesso me lo date Madonna No Qua mi secca eh Qua mi secca Ok 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 via Via Tocchiamo il tempo subito Ok E poi Dov'è? Ok 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 Benissimo Ci ho pensato loro Porca vacca Ok Vorrei curarmi però Grazie No Grazie Eh ancora va No Aspetta Ok 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 Ottimo 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 Ah andava di qua Guarda Di qua Stop posso usarlo? No Allora niente Usiamo mega etere E Ecco Stava ripartendo Guarda Aia È come se servisse a qualcosa Ok Aiuto Ok Aspetta aspetta Che qua spreco solo PM Se non sta fermo Appunto Preso sì Ok 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 Aiuto C'era solo con me Io non so Ok Ok Via Via Ok Eh no Prezione Ok Eh è così all'improvviso Mi raccomando Maledizione Adesso mi devo ricurare Faccerò le calcagna Ok Dai che adesso si avvicina là Perfetto Oh così mi da un attimo di tempo Ed ecco ora E poi Stop Basta Ho finito tutto Ok Oh grazie Pippo Oh Ma guarda Maledetto Troppo lontano Stai fermo un attimo Maledizione Sì preso 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 Ok Ok Ma che ancora pochi colpi Eh Ancora pochi colpi Ok Va di là Usiamo per l'ultima volta Stop Dai speriamo sia l'ultima Ok Miralo Ok Oh Maledetto Fantasma Eh No non era complicato appunto Il complicato era Usare la magia giusta Al momento giusto Non mi è morto nessuno Va bene Ottimo Questo fatto Forza del tempo Forza del tempo Stopra è diventata più potente Stopga Oh Bene Bene Eh qua c'era esatto Io me ne andrei Ok Anzi Salviamo Ok Bene Ora Ci dirigiamo Invece Ho fatto una Scoperta No come Forse avevo già accennato Ehm Con la versione Final Mix Hanno aggiunto della roba Ci sono anche Armi Keyblade Nuovi Che non c'erano nella versione PS2 A cui avevo giocato Ehm Ok qua Ma hanno aggiunto anche dei boss A quanto pare E uno di questi Si trova qua Allora io però Prima di farlo Ovviamente Visto che Ho Consumato tutto Praticamente Allora diamo un paio di pozioni Poi mettiamo Facciamo un mega etere Gran pozione Gran pozione Gran pozione Ehm Boh E li sirva Ok No gli altri nulla Oh Aladdin Hai un po' di roba Te la rubo Aspetta Eh Ok No dal menu ho qualcosa Aspetta Da usare No No Ok Armi Ok No Devo modificare Rimettere quello che avevo prima Grazie Energira Energira Eccolo lì Poi mettiamo Stop No Qua c'era Aerora Si E qua c'era Antimaga Ok Ok Vediamo un po' No Il nome lo so Del boss Ma ovviamente non so Cosa Cosa desideri Vuoi andare da qualche parte Adesso andiamo Eh Non so Come battere Non ho guardato Ovviamente Ecco Questo qua E' un boss aggiunto Allora Vediamo un po' Beh io ti colpisco Ok Come al solito Aspetta Ma Perché non posso usare le magie Scusate Non dimmi che neutralizza le magie questo Eh Potrebbe essere un problema Ok Non male un po' Di pozione Ok Continua colpirlo Vabbè ci arrangiamo Ah si Ah Ho capito Quando aveva con le due sfere Infatti Quando aveva con le due sfere Non ci faceva usare le magie Va bene Eh rimane un po' a terra Però eh Ok Ok Oh Mega etere Sì ma tanto Non è che lo occupaggiamo Voglio dire Aspetta Vieni qua Alla barriera Ma Aspetta Allora prima Non ci faceva usare le magie Ma potevamo attaccarlo Ora Ci da tanti AP Ah ma forse ho capito Aspetta Vuoi vedere che Funziona Sì 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 Adesso possiamo usare le magie Va bene Per quello ci da E AP Ci da APM Con queste bolle Però questo Aspetta Magari Magari mi curo Ecco Se usiamo Vediamo Thunder Magari Thunder è meglio Che Antimara E a zona Ok Vai vai colpiamo Ma io Aspetta che mi curo No Mi cu Mi curo Ho detto Cosa fai mo? Ah ok Adesso mi ha neutralizzato la magia Ok Aiuto Eh già è l'abitudine Aspetta già Aaaaa Va bene va bene Adesso che lo so Vediamo Vediamo Forse ho un'idea Non pensavo Ma Boss Veramente Tosto Tosto Non credevo Chissà perché Pensavo Sì fosse difficile Ma non così difficile Allora Eh ma la parte più difficile È questa Che non puoi usare la magia Le magie Infatti ho invocato Trilli Proprio perché Non posso usare la magia Energia Per questo Aspetta Ok Un po' di vita Vabbè Madonna Qua se ne va Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Allora Devo cercare Ok Devo cercare di togliere più vita possibile Perchè E sono andato un po' avanti Ma è un alternarsi di Momenti dove non puoi usare la magia Momenti dove la puoi usare E proprio così è Perciò Più vita li tolgo ora Meglio è Ok Ok Vai coltando Subito Dai 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 Vaperino Dammi la mano Ecco Fantastico Aspetta Aspetta Non ho Ancora un paio di thunder direi Ehm Niente No 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 Posso usare Ok Vai massacriamolo Più vita tolgo Meglio è Ok mo Iniziano i casini Allora Dai Devo stare appiccicato Ho visto Incollato proprio Dove vai dove vai Vini qua Se gli sto incollato Diciamo che C'è meno probabilità che faccia Un attacco Che è un po' Un po' bastardo Madonna Che bordello La telecamera Aia Ok 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 Infatti Infatti non l'ha fatto Infatti non l'ha fatto Dai 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 colpiamolo Merda Adesso C'è la fase magica Ok Adesso Io ho finito Ok No no Aspetta aspetta Che qua Eh no Qua devo Continuamente Schivare Madonna Eh devo un attimo Schivare Purtroppo Ok ok Finiti Queste palle Dal terreno Ok Ma ci può Uno me ne manca Ok Ok Dai 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 Ma no Si è rialzato subito Il maledetto Ok Allora come prima Devo stargli incollato Via via No Qui 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 Vieni qua No 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 È questo Non voglio Che mi faccia Ok Merda Ok Ah finito Ha finito Meno male No perché quello è Non è semplicissimo Da Schivare Aia Trilli curami Merda non c'è più Trilli Vai Riusciamo a massacrarlo Ho qualche dubbio eh Ma si può di poco Mi curo Mi curo Ah va cagare Non mi rapo Aia Mi curo No no cosa fa Ah fa quello la Ok Si Allora niente schivo Continuo a schivare Continuo a schivare A manetta Ma Aia appunto Mi devo curare Mi ha difeso Pippo No Ok Ok Ah finito Stavo continuando a schivare Così Oh bravo Pippo Mi ha ricaricato Aia Eh Merda Calma Questa qua è la parte più semplice Qui vicino Non ho più Io non ho più Purtroppo Ah ok Forse ho capito No Una cosa che non avevo notato Aspetto Qua devo schivare Ci si prova Almeno Vado qui Ok Aia Non devo venire colpito Ma Eh Non è semplicissimo Ok Firestone Ora uno Non ne ho vero? No Ok Dai 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 Sì Sì Ce l'abbiamo fatta Non ci credo Mamma mia È stato massacrante Oh La parte più difficile Era appunto Quando non potevi usare la magia Eh sì Olè Oh Ma le mie dita Ah Ok Sono preso a vita Zan Tetsu Ken Diario Ansem 11 Cos'è? Una mossa giapponese Ma io salvo subito Ma non guardo niente Io salvo subito Ok Oh Grazie Adesso posso guardare Allora Aspetta No Abilità Potrei anche attivarla Ah Il 30% di possibilità Di scatenare Un potente combo attacco Che distrugge I nemici più deboli Ah Vabbè Mettiamola Interessante Ok E direi Che con questo Sì Abbiamo fatto I due boss opzionali Eh Sono molto combattuto Perché comunque ci manca solo il finale Praticamente E io sono a livello 68 Che ho idea che per sefiro non basti Affatto Affatto Vabbè Ci penso Ora nel prossimo episodio ci penso Vediamo cosa fare Io vorrei fare sefiro Ma Vabbè Ci pensiamo Cioè lo farò Non è che non lo farò Magari Proverò a livellare un po' in giro Per potenziarmi un po' E dopo di che Affrontiamo sefiro Vediamo Va bene Che Che Poi È